Il giorno e la storia. Oggi è il 10 febbraio. È il giorno del ricordo. 1962, Berlino, primo scambio di uomini sul Ponte delle Spie. 2006, Torino, si inaugurano le Olimpiadi Invernali. Commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. Oggi ho deciso di parlare di Pasternak, perché ancora in questo momento in tanti paesi dispotici esistono molti Pasternak abbandonati a se stessi.